Non è stata una bella serata per voi questa sera? No, diciamo che la partita si è messa un po' male, nonostante fossimo partiti davvero bene. Poi l'episodio del rigore ci ha un po' costretti a rincorrere, però abbiamo creato, abbiamo giocato e meritatamente abbiamo pareggiato. Poi purtroppo nel secondo tempo un altro episodio ci ha tagliato le gambe e non si è riusciti a portare a casa neanche un punto. Ti chiedo, soprattutto nel secondo tempo, a centrocampo vi siete un po' annullati, nel senso conoscendo il Pescara di solito crea e concede pericoli, invece il secondo tempo è stato senza pericoli effettivi? Sì, è stata una partita più tattica forse, il primo tempo è stato un po' più intenso, più ribaltoni destra-sinistra, magari il secondo più una partita studiata, una partita a ritmi un po' più blandi. Poi nel finale abbiamo preso questo gol che purtroppo ci ha fatto perdere la partita, però direi che dobbiamo ripartire da qui perché è una bella base da cui ripartire e niente, pensiamo alla prossima. Ti chiedo un'ultima cosa, hai già affrontato tante squadre, delle grandi, soprattutto il Perugia, poi continuerete tra qualche giorno la gara con la Lucchese. Questo Pescara che ruolo può avere in campionato secondo te? Sicuramente sarà un Pescara protagonista fino alla fine, quest'anno il Giro NB è veramente molto tosto, saranno veramente tutte difficili le partite, però il Pescara sono convinto che starà lassù fino alla fine con altre 4-5 squadre.